Deve essere una nuova trovata del Ministro della Salute per mascherare i tagli della sanità. Accanto a Missenda, a destra, si va in corso un verto. A sinistra due verti, sempre a diritto tre verti. Amici, tranquilli, se soffrite di problemi digestivi, lo studio del dottor Pranzo è il pasto giusto. In questo bar vendono merendine senza glutei. Del resto si sa, quando mangi i conciuli finiscono tutti sui fianchi. Glutei, eh? E' una nuova trovata del Ministro della Salute per mascherare i tagli della sanità. Accanto a Missenda, a destra, si va in corso un verto. A sinistra due verti, sempre a diritto tre verti. Amici, tranquilli, se soffrite di problemi digestivi, lo studio del dottor Pranzo è il pasto giusto.